T-shirt a bermuda e polo, oltre a costumi da mare, questi i capi che stanno andando per la maggiore. Le vendite invece sono in linea con quelle del 2021, ma gli incassi restano ben lontani al periodo pre-Covid. A quasi un mese dall'avvio dei saldi è infatti la Confesercenti di Arezzo a stilare un bilancio sull'andamento degli acquisti a prezzi scontati di quest'estate caratterizzata dal grande caldo. In queste prime settimane le vendite, spiega la direttrice Valeria Alvisi, sono in linea con quelle dello scorso anno. A causa delle alte temperature i clienti preferiscono l'acquisto di t-shirt a bermuda e polo al posto di pantaloni e maglie, quindi anche gli incassi per scontrino medio risultano meno significativi, ad influenzare l'andamento e poi anche il caldo eccessivo che si protrai da settimane. Le alte temperature hanno rallentato la voglia di fare acquisti, soprattutto in determinate fasce orarie che vedono i centri storici deserti. Gli orari dello shopping si sono spostati con l'anticipo alle prime ore della mattinata per poi riprendere dopo le 18. Tra le vetrine commercianti si aspettavano qualcosa di più dagli acquisti di fine stagione e quindi le aspettative sono state parzialmente disattese, ma è incoraggiante il fatto che non si sia ancora affievolito l'effetto saldo. Il consumatore avvivo l'interesse a rinnovare il guardaroba in vista della partenza per le vacanze, inoltre c'è stato un positivo risveglio del settore degli abiti da cerimonia che era rimasto fermo durante il periodo della pandemia e che adesso conclude al visi, ha fortunatamente rivisto ripartire gli acquisti.